Buongiorno a tutti, benvenuti in Exponential Rimini, quest'anno per la divisione radiologica di Tecnogaz, abbiamo pensato di proporre lo Smart 3D, conosciuto da molti perché è la nostra macchina che oggi ci sta dando grosse soddisfazioni, quindi Smart GT, Smart Plus, l'evoluzione del nostro Smart GT con braccio cefalometrico one shot e poi in anteprima mondiale presentiamo anche il Green X12 che è l'ultimo apparecchio nato nella famiglia VATEC che raccudo delle peculiarità che vorremmo illustrarvi se venite a trovarci in Accidenta, se no tramite social nei prossimi mesi le andremo ad illustrare. È una macchina completamente nuova, presentata in IDS a Colonia al mese di marzo e qui in anteprima da poter provare e vederele attraverso le nostre postazioni del Rostation possiamo andare a vedere attraverso il software le nuove sue caratteristiche. Quindi vi aspettiamo numerosi stand, noi siamo qua fino a sabato, contento per questo. Arrivederci a tutti e buon proseguimento. Grazie.